Omnibus. Attualità, religione e cultura. Amici e amiche che siete in ascolto, un caro saluto a tutti voi da Denise Arcieri. Sarà a breve discusso alla Camera dei Deputati il disegno di legge d'iniziativa governativa che intende modificare la normativa italiana sull'esportazione di armi, ovvero la legge 185. Il testo è stato già approvato al Senato in Commissione Esteri e Difesa e poi in Aula il 21 febbraio. Oggi noi parleremo dei rischi di questa modifica con il professor Maurizio Simoncelli, vicepresidente e cofondatore dell'Istituto di Ricerche Internazionali Archive Disarmo, che innanzitutto ringrazio per aver accettato il nostro invito. Bentrovato! Grazie, salve a tutti quanti. Professor Simoncelli, la legge 185 del 1990 disciplina il controllo della movimentazione dei materiali di armamento da e verso l'estero. Contiene diversi elementi interessanti per cui il commercio di armi deve essere gestito con diversi protocolli e controlli e individua anche alcuni specifici di vieti per quanto riguarda l'esportazione e l'importazione. Ecco, io vorrei chiederle di ricordare ai nostri radioscoltatori e alle nostre radioscoltatrici quali sono gli aspetti su cui si caratterizza questa legge e che cosa ha garantito realmente in questi 35 anni, diciamo quasi, in termini di trasparenza e controllo concretamente del commercio italiano di materiali di armamenti. La storia di questa legge è di antica data, abbiamo cominciato a occuparci negli anni 70, quando l'Italia esportava, come diceva il film di Alberto Sordi, finché c'è guerra c'è speranza, esportavamo a tutti quanti, esportavamo all'Iran e all'Iraq che erano in guerra tra di loro, un milione di morti. Abbiamo esportato allegramente Sudafrica quando c'era il regime razzista fino alla fine, abbiamo esportato al regime di Gheddafi quando sosteneva apertamente il terrorismo, abbiamo esportato a Saddam Hussein tramite un'agenzia della BNL di Atlanta dei finanziamenti per delle armi particolari che si voleva realizzare, quindi l'Italia era un grande esportatore di armi in modo anche incontrollato. Con la 185 approvata nel 1990 si è voluto sostanzialmente porre delle regole a questo western, a questo sistema selvaggio per cui si vendeva a chiunque e i principi fondamentali erano quelli di pietare la vendita di armi a paesi in guerra, a paesi dove non ci fossero rispetto ai diritti umani o che spendessero troppo per gli armamenti in base agli aiuti che riceveva per lo sviluppo, oppure che ovviamente ci fossero degli imbarghi da parte internazionale sull'esportazione di armi fatte dall'ONU, dall'Unione Europea e così via. Il problema è che questa legge nel corso degli anni, a mio avviso, va detto, è stata progressivamente depotenziata. Depotenziata perché i vari governi di centro, di sinistra e di destra, hanno avuto un occhio benevolo per questo settore e piano piano nell'arco di questi 30 anni la legge è stata sempre più indebolita. A un certo punto noi ci troviamo oggi con questa legge ancora vigente che addirittura vi è un articolo per cui non si applicano i divieti di questa legge, di quelli che ho detto prima, ai paesi con i quali l'Italia ha firmato accordi di cooperazione militare e sono una cinquantina di questi paesi. E come ha detto lo stesso Presidente Mattarella alcuni anni fa, prima di diventare Presidente della Repubblica, ci fosse un modo per aggirare la legge. Ed è vero, tant'è che a partire da una quindicina di anni le nostre esportazioni di armi sono andate crescendo esponenzialmente. Prima, mediamente, diciamo dal 1990 in poi, questa legge ha abbastanza funzionato e esportavamo media un miliardo, un miliardo e mezzo l'anno di realità armamento. Diciamo più o meno dal 2005-2006 in poi abbiamo mediamente esportato 4-5 volte di più la cifra. Abbiamo esportato a paesi in guerra, a paesi che non rispettano i diritti umani. Abbiamo esportato alla Russia, abbiamo esportato alla Cina, abbiamo esportato all'Arabia Saudita. All'Egitto c'è stato un momento di timidezza nel momento in cui ha fatto quello che ha fatto il cittadino italiano Giulio Reggeni. Poi due anni dopo abbiamo riuscito a esportare tranquillamente armi a questo regime dittatoriale. Quindi in realtà questa legge già era fortemente indebolita. Ciò nonostante, in seguito alle vicende di questi ultimi anni, ci sono forti pressioni da parte industriale e anche da parte delle istituzioni bancarie affinché la legge venga cambiata. Ed è quello che stanno tentando di fare, che già hanno approvato in sede il Senato. Professore, spieghiamo adesso infatti nello specifico che cosa prevede il disegno di legge di iniziativa governativa che intende modificare, peggiorando in maniera significativa, tale normativa. Che cosa si rischia concretamente e quali sono a suo avviso gli aspetti più preoccupanti e più gestanti? Sostanzialmente ci sono alcuni aspetti che sono a dir poco preoccupanti. Il primo è che fino adesso era un ufficio incaricato presso il Ministero degli Affari Esteri, ufficio per le autorizzazioni di materiale di armamento che riceveva tutte le proposte da parte delle singole industrie, proposte di contratto di armamenti o munizioni da esportare e istruiva la pratica alla luce dei vincoli più o meno forti, come dicevo, dei vincoli che la legge pone. Il governo, per semplificare, tra virgolette, ha deciso che le autorizzazioni verranno date non più da questo ufficio, ma verranno date da un mini Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio, Ministro degli Esteri, Ministro della Difesa, Ministro del Commercio Esteri e così via, che si riuniscono e valutano di volta in volta la fattibilità e danno subito l'ok o meno a queste proposte di contratto. Considerate che noi abbiamo circa 90 clienti a livello mondiale, cioè 90 stati che comprano noi, per circa 3.000 contratti, o noi ci possiamo immaginare che il Consiglio dei Ministri di distretto si riunisca 3.000 volte, ogni volta per deliberare l'ok a uno di questi contratti. La cosa è palesemente irrealizzabile, gli impegni dei vari Ministri che non potranno essere presenti tutti quanti per deliberare in questo senso. A questo punto, l'elemento ancora più grave, è che è stata stabilita una clausola di silenzio assenso. Quindi se questo Consiglio dei Ministri non delibera negativamente, non arriva quindi a una delibera negativa nel giro di 15 giorni, praticamente il contratto viene autorizzato, indipendentemente. Quindi se non hanno il tempo di incontrarsi i nostri signori ministri, questo è un via libera automatico. Quindi non essendoci più l'Uama che ha come funzionari incaricati sistematicamente di seguire queste procedure e avendo questo mini Consiglio dei Ministri che si dovrebbe incaricare, immaginiamo come dire il caos, il via libera generalizzato che avverrebbe in questo caso. Poi c'è un altro elemento a mio avviso preoccupante, è che le banche stanno chiedendo da tempo la rimozione dell'elenco delle banche presso i loro servizi finanziari per le transazioni internazionali in questo settore. Questo è collegato a un'iniziativa della società civile che da anni stava attivando la cosiddetta campagna banche armate, che sostanzialmente invita i cittadini a informarsi se la propria banca presta questi servizi all'industria degli armamenti ed è questo elenco reperibile sulla relazione che ogni anno il governo deve presentare al Parlamento italiano in base alla legge 185-190. Quindi noi sappiamo se la mia banca, che tiene i miei pochi soldini, ma comunque sono snoldini, ecco se la mia banca è tra quelle che offre le sue intermediazioni. Questa campagna iniziata anni fa piano piano ha coinvolto centinaia di migliaia di persone che hanno forzato i loro depositi bancari. Anche se ognuno di noi ha solamente mille euro in deposito in banca, quando cominciamo ad essere centomila persone e moltiplichiamo per mille o due mila o tre mila o quello che sia, l'effetto è stato tale che le banche si sono mosse in questo senso per far sì che i cittadini non sappiano la loro politica in questo ambito. Quindi è un tentativo appunto di nascondere, di non far sapere i cittadini, è un tentativo decisamente antidemocratico. E questo è un altro elemento gravissimo. Torniamo in un'era pre-185, torniamo in una situazione in cui potremmo esportare tutti quanti. Segniamo presente che già esportato con questa legge sono riusciti ad esportare pure alcuni paesi cui ufficialmente non dovremmo esportare, paesi come la Cina o come la Russia, abbiamo esportato armi e adesso ci troviamo addirittura sull'orlo di una guerra con la Russia. La rete italiana Pace di Sarmo è intervenuta nel dibattito al Senato sia in udizione sia con documenti di approfondimento. Ha avanzato anche delle proposte specifiche per migliorare questa normativa, questa legge. Parliamo di questa proposta ma soprattutto come andrebbe secondo lei migliorata questa legge. In realtà già l'ho detto, i punti deboli della legge, questo articolo che fa sì che i paesi con cui abbiamo firmato un accordo di cooperazione militare sono esenti dall'applicazione di questa legge. Quindi quando i nostri parlamentari hanno firmato degli accordi di cooperazione militare che sono molto generici, se andiamo a vedere il testo approvato al Parlamento, è un testo molto generico, apparentemente neutrale, ma essendoci questa clausola, fa sì che sia inattuabile la legge 185. Questo è uno degli aspetti. Quindi andrebbe prima cosa tolto questo articolo qui proprio per togliere l'automatismo, perché noi oggi abbiamo 90 clienti in tutto il mondo, per cui ci sono state forti resistenze a suo tempo quando denunciavamo che la fabbrica di bombe RVM di Iglesias vicino Cagliari produceva bombe d'aereo che venivano vendute all'aeronautica dell'Arabia Saudita che le ha usate più volte per colpire deliberatamente degli obiettivi civili nella guerra nello Yemen e questo è avvenuto nonostante la legge vigente. Quindi serve una maggiore attenzione e una maggiore coerenza perché a volte appunto questo fa sì che se firmiamo un accordo di cooperazione militare con l'Arabia Saudita si possa esportare indipendentemente dai divieti, che sono degli elementi più gravi. L'altro elemento è la stessa relazione. Noi dobbiamo rimpiangere la relazione che abbiamo avuto nel 1991-92, una relazione del governo che ci informava su che cosa veniva esportato, la quantità, a chi e così via, il prezzo e tutto quanto. È una semplice tabella Excel, una tabella che ci dava le informazioni. Nel corso degli anni i vari governi hanno aumentato la dose cartacea di queste informazioni, siamo arrivati a qualcosa come 1500 pagine, sempre più oscure. Per cui non riusciamo a incrociare i dati per privacy, perché le aziende ci tengono molto alla privacy, alla riservatezza. Riusciamo a incrociare i dati su che cose esportiamo esattamente e a quale paese. Riusciamo a sapere la tipologia di armi al limite, aerei, navi, artiglieria di quale calibro, che tipo di fucile mitragliatore, che tipo di bomba a mano, che tipo di carro armato o quello che sia. Quanti ne abbiamo esportati? Serve un grosso lavoro di esegessi, biblica, per cercare di capire esattamente cosa ci fa intendere questa relazione. Più siamo andati avanti gli anni, più è diventato difficile. Addirittura per alcuni anni sono stati capaci di salvare questa relazione in formato PDF immagine e quindi perché si intende di informatica significa che bisognava leggersi tutte, 1500 le pagine per poter trovare il nome, non so, Egitto. Normalmente con il computer, con il sistema informatico normale, io faccio la ricerca e chiedo dove sta la parola Egitto e la trovo. In questo caso non la trovavo, era come se fossero delle fotografie, 1500 pagine fotografate. Per cui era addirittura impossibile da leggere, è faticosissimo. Gli stessi parlamentari, alcuni parlamentari, si sono lamentati di questo fatto, viene data una relazione che per noi è difficilissima da leggere, perché 1500 pagine per un parlamentare che è impegnato con riunioni, assemblee, commissioni, questo e quest'altro, va a aumentare la dose di lavoro. E questo è uno degli aspetti. L'importante è un lato trasparenza, aumentare la trasparenza. Dall'altro lato anche all'interno del 185 c'era scritto una piccola parola, si parlava anche di riconversione. Ufficialmente nel 185 si prevedeva anche eventualmente la riconversione delle aziende dal militare al civile. Questa non è mai stata attivata, non è mai finanziata né ricerche né fondi per la riconversione. Quindi al massimo abbiamo avuto la riconversione al contrario, cioè aziende del settore civile che in base ai finanziamenti pubblici dello Stato italiano sono arrivati a riconvertirsi e a produrre anche per il settore militare. È il caso di quella che ho già detto prima, che era l'azienda RVM della Sardegna, che prima produceva esposivi per miniera e si è riconvertita e produce delle bombe per aerei, bombe sicure e quant'altro. Ecco, questi sono i limiti di questa legge ad oggi vigente che è stata prossimamente, ripeto, indebolita nel corso degli anni e che invece andrebbe in un momento qual è quello attuale, in cui fino a 90 di guerra dovremmo cercare di percorrere altre strade. Avevo letto, professore, anche l'inserimento nella norma nazionale di un richiamo al trattato sul commercio delle armi. La 185 del 1990 è stata una legge antesignana che per prima a livello mondiale ha messo delle regole sull'esportazione delle armi e pochi anni dopo anche l'Unione Europea ha fatto proprio questi principi. Prima con codice condotta, poi con una posizione comune, con delle norme appunto che cercano di omogenizzare la normativa a livello europeo. I paesi europei sono tra i principali produttori e esportatori di armi, insieme agli Stati Uniti e alla Russia e alla Cina. Poi successivamente, in questo nuovo secolo, siamo riusciti a far approvare l'ATT, cioè il Trattato internazionale del commercio delle armi a livello delle Nazioni Unite. Riprende gli stessi principi, ma anche qui questa normativa che è abbastanza vincolante per certi versi, anche un po' di più rispetto a quella che è la 185-90, quindi teoricamente noi dovremmo anche rispettare quella legge internazionale che ha valore superiore alla legge nazionale. Però anche qui c'è un codicillo, una scappatoia che qualora noi vendessimo armi a un paese dobbiamo sapere che quelle armi, quelle munizioni eccetera saranno utilizzate per la repressione. Basta dire che non immaginavamo che quel dittatore avrebbe usato le armi contro il popolo. Se ci viene chiesto di comprare una partita di fucili mitragliatori, mitragliatrici o quello che sia, per combattere il terrorismo, noi ci crediamo ufficialmente, non immaginiamo che quel dittatore le userà per la repressione e quindi anche qui le armi potranno andare dove vogliamo noi. La storia purtroppo recente ci dimostra che i grandi produttori di armi e munizioni e così via hanno continuato a raggiungere anche nei luoghi di conflitto le loro armi e le munizioni. Basta favori ai mercati di armi e il forte appello lanciato dalla rete italiana Pace e Disarmo e nello stesso giorno è arrivato anche un appello alle coscienze dei parlamentari contro il fasto realismo della guerra promosso proprio dal mondo associativo cattolico. Si è svolta infatti una conferenza stampa a Roma organizzata proprio dall'azione cattolica, dall'ACLI, dalla comunità Papa Giovanni XXIII, dal movimento dei Focolari, da Pax Cristi e da Gesci. Appelli per fermare lo svuotamento della legge 185 ma anche un invito rivolto a tutte e a tutti a scegliere di non restare indifferenti. Cosa dovrebbe significare realmente scegliere la disobbedienza civile in questo delicato momento storico? Abbiamo visto che le vendite e il commercio di armi non risolvono i problemi. Sono sempre fatta la guerra perché avrebbe dovuto essere l'ultima guerra che c'era e poi invece abbiamo continuato guerra dopo guerra in tutti gli Stati. Papa Francesco ha parlato più volte di guerra mondiale a pezzi. Non dobbiamo più chiudere gli occhi, non dobbiamo più immaginare che noi non c'entriamo niente. L'Italia ha un post di tutto rilievo nella classifica dei mercanti d'armi contro cui Papa Francesco più volte ha fatto sentire la sua voce. Siamo attualmente, secondo i dati Sibri di questo istituto di Stoccolma che è la massima autorità mondiale nell'ambito, siamo al sesto post a livello internazionale. Dobbiamo quindi far sentire la nostra voce, dobbiamo mobilitare, dobbiamo sapere che le vendite di armi non sono le vendite di forme di parmigiano. Sappiamo che queste armi sono come via del Signore, vanno da tutte le parti e vanno anche a finire in zone dove non dovrebbero andare. Siamo stati tra i principali fornitori di armi al regime di Gheddafi, poi lo abbiamo attaccato, abbiamo partecipato attivamente alla guerra, anche se in Italia non è stato detto, non si è saputo dopo, ma queste nostre armi che erano i arsenali del regime di Gheddafi poi sono stati saccheggiati, sono andate a finire nel mare, nei gruppi fondamentalisti, sono andate a finire nella guerra in Siria e così via. Noi pochi anni fa abbiamo fatto una ricerca per il Ministero degli Esteri, traffico di armi piccole e leggere nel Mediterraneo allargato e risultava che le armi venivano vendute inizialmente in modo legale, partivano dall'Europa, poi andavano in Africa, poi giravano nel Medio Oriente, passavano per i Balcani e ritornavano in Europa seguendo vie illegali, andando a alimentare terrorismo, la delinquenza organizzata o la delinquenza comune, armi e munizioni che spesso sono più facili da trovare rispetto a tanti altri prodotti e seguono le stesse vie anche della droga. Quindi gli effetti poi di questi commerci e gli armamenti sono assolutamente deliteri. Parlare di obbedienza, ricordiamo Deo Milani che ha scritto un libricino che andrebbe ritetto in tutte le scuole, l'obbedienza non è più la virtù, andrebbe letto solo in tutte le scuole ma andrebbe letto anche agli adulti e ricordare che le vie che si stanno intraprendendo, che è quella di un confronto muscolare a livello internazionale, sono vie non solo pericolose ma sono vie suicide come ci ha documentato la stessa Croce Rossa internazionale a proposito dell'ipotesi di una guerra nucleare contro cui Papa Francesco da anni sta attuonando. Invece noi assistiamo oggi giornali, uomini politici e quant'altro parlano tranquillamente di un'arma nucleare, di confrontarsi sui personali nucleari. Noi ce ne abbiamo tre, voi ce ne avete cinque, allora noi dobbiamo avere sei e così via. Stiamo parlando del suicidio dell'umanità e qui siamo di fronte a una follia che ha bisogno di una risposta molto chiara. Signor no, noi non obbediamo, noi siamo contro. Proprio Papa Francesco lo scorso 3 marzo al termine dell'Angelus ha ricordato che il disarmo è un dovere morale, richiede il coraggio, mi ha colpito fortemente questa frase, da parte di tutti i membri delle grandi famiglie e delle nazioni di passare dall'equilibrio della paura all'equilibrio della fiducia. Questo dovrebbe tradursi nella prospettiva di sicurezza condivisa, cercare di promuovere, di cercare di prevenire i conflitti e scegliere la via della fratellanza e della pace. Lei parlava prima che stiamo invece cercando a livello internazionale proprio di suicidio dell'umanità e non una prospettiva di vita ed amore. Vorrei concludere con un tuo pensiero proprio rivolto all'impegno internazionale per perseguire la via della fratellanza, della pace e dell'amore. Io dico sempre che da soli siamo solo un granellino di sabbia. Non possiamo fare nulla. Ma se ci mettiamo tutti assieme, lavoriamoci, organizziamoci, raccordiamo, collaboriamo per un impegno e una pace, diventiamo un tale blocco di sabbia che blocchiamo i meccanismi di questa macchina della guerra. Questo è il dobbiamo fare, unirci tutti assieme, far sentire la nostra voce, mobilitarci, non stare chiusi nella propria casa, non stare piegati sul proprio telefonino a guardare le varie notizioni che ci arrivano, TikTok o la televisione, uscire fuori, far sentire la nostra voce, farla sentire soprattutto ai nostri rappresentanti e se non la vogliono sentire, farci sentire comunque in un modo o nell'altro. Dobbiamo assolutamente lavorare tutti assieme perché la voce della pace sia più forte della voce della guerra. E questo lo possiamo fare. I risultati in questi anni sono stati ottenuti, voglio fare un esempio a proposito per esempio delle mine anti-uomo, queste armi terribili che continuano a uccidere anche quando la guerra è finita perché rimangono lì, se non viene minato il terreno continuano a uccidere, uccidere donne innocenti, bambini, persone che passano, che non c'entrano nulla con una guerra che magari c'è stata dieci anni prima o vent'anni prima. Le mine anti-uomo sono state messe fuori legge a livello internazionale grazie a un'iniziativa della società civile che è riuscita a coinvolgere tanti stati e oggi le mine anti-uomo non vengono più usate e questo è avvenuto grazie all'iniziativa prima di un insegnante che poi ha allargato la rete delle associazioni e delle persone impegnate in questo e siamo arrivati ormai quasi trent'anni fa a mettere le mine anti-uomo fuori legge e anche l'Italia che era un grande paese produttore di mine ha deciso di firmare questo trattato, abbiamo chiuso le fabbriche, abbiamo distrutto i nostri arsenali, oggi l'Italia da questo punto di vista va ricordato partecipa a un'azione internazionale per lo minamento nei paesi in cui le mine ancora esistono e ancora faciliano vite umane. Ecco, questo è uno degli esempi ma poi ce ne potrebbero essere tanti altri ma ricordiamo che ci sono tante persone impegnate sulla pace, non dimentichiamo i portuali che si rifiutano in Liguria di imbarcare armi sulle navi destinate all'Arabia Saudita e che sono stati messi sotto processo per interruzione di lavoro, di eserfizio pubblico e i tattolici si stanno molto mobilitando su questo ma dobbiamo renderci conto che la via che si sta proponendo sempre di più sui giornali, sulle televisioni è quella del confronto muscolare, armi, munizioni, bombe anatomiche e così via è una strada pericolosissima che come ha detto Papa Francesco non ci porta alla vita ma ci porta alla morte. La ringrazio Professor Maurizio Simoncelli per essere stato con noi e averci aiutato e guidato in questa riflessione, grazie veramente di cuore. Grazie a lei e a tutti i radioascoltatori. Saluto e ringrazio tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici per averci seguito, a presto, venite. Arcello. Avete ascoltato Omnibus. Attualità, religione e cultura.